Eccomi qua ragazzi, ben tornati qua in questa 26esima puntata della serie Fezbrun Ho visto che la 24esima è andata come una delle classiche puntate Quindi non ha attirato molto la gente Ecco, è stata guardata come una classica puntata e niente Nelle 25esima che deve ancora uscire ho fatto delle buone previsioni Ma non sono assolutamente come pensavo Ma vabbè, pazienza, non sono qui sicuramente su Youtube per diventare famoso Fare soldi a palate e menate vai Ma sono semplicemente qui perché mi piace fare video E diciamo che mi tengono anche un pochettino occupati Vorrei poter far di meglio ma purtroppo per ora le cose non sono, diciamo, fattibili Quindi niente, vado avanti così e pazienza Ecco, da parte di quelle poche persone che guardano il video nonostante siano magari pallosi o altro Comunque allora, oggi sono qui in questa puntata per, vabbè, continuare tutti quanti i campi Sono cresciuto anche le erbacce e potete togliere anche quando le culture non sono ancora crescute Tanto il gioco non frega niente, anzi è una cosa che è meglio Ovviamente non dovete stare lì a confondervi con le culture L'altra volta devo prendere un altro, non mi metto il nome Ecco, salchiatore più grande perché l'altro è piccolino, l'ho usato un sacco di volte Ma ormai mi sono stancato perché voglio fare le lavorazioni veloci In modo da poter perdere il meno tempo possibile E soprattutto poter utilizzare entrambi i mezzi per altre lavorazioni Quindi adesso io metto l'operaio qui Prendo il magnum con il salchiatore La zavorra ma le vado a posarla su una di quelle panchine che sono molto molto utili Cosa che anche nelle serie di marchi abbiamo capito come utilizzarle Quindi sono veramente molto utili Vedete, è un porta zavorre fatto di legno Quindi veramente, eh sì, se magari per me si tasti giusti è ben perfetto Quindi buon, allora, il piano per oggi sarebbe ovviamente fare azione mista per le mucche Così producono ancora di più Poi vi faccio vedere tutto quanto come sono messe E cambiare il sarchio e diciamo disfarci delle balle di erba Ma lì ovviamente ha dei piani che poi vi farò sapere Bene, ok, eccomi qua arrivato Adesso andiamo subiettissimo a portare il, cosa qua, l'einbok, il salchiatore a vendere Adesso lo mettiamo qui Oh, sì, se magari non mi viene in... Eh, non posso dire dove ma avete capito cosa intendo Boh, adesso mettiamo l'intanto al mezzo qui Così ho avuto l'intanto di attaccare il salchiatore davanti Mentre il caro micelatore lo attacco dietro Così, almeno posso fare due viaggi in uno Nel senso stare lì a portare anche il valtre La valtre mi serve per qualcosa altro, quindi lo lascio lì Allora, salchiatore... Ah, ok, eccolo qua Beh, ci sarebbe anche questo qua che è da 12 metri Eh, non serve male però Eh, sono indeciso che questo qua non vi metto, questo invece è andato ucci Beh, senti, a sto punto è meglio fare un acquisto sensato e prendiamo questo qua, va Così poi faccio ancora più presto Poi magari quando comprerò dei futuri campi Avrò possibilità anche di utilizzarlo comodamente Senza per forza stare lì a cambiare ancora una volta Adesso qua c'è questo qua Allora, questo qui... Oh, non c'è altro Questo qua voglio metto di prendere questo qui Guardate per l'ingasinamento Oh, beh, questo qua Oh, questo qua Beh, questo qua ovviamente Perché l'altro costa sui 150.000 Eh, 558.000, ok? Che ne ho di soldi Però diciamo che vorrei evitare di sprecarne troppi, ecco Tanto tra un po' aumenterò le vacche Comunque questo qua mi costa E non è che posso tracchiatore spendere soldi a manetta Per ora mi ha contato di questo qui Vi sto ghiacciando poche vacche Quindi basterebbe fare T'ho 3-4 carri miceletore Dopodiché tutto quanto a posto Mentre questo qui Ne porta 17.000 Ma 1000 litri in più non mi cambia tantissimo Una cosa positiva è che posso Diciamo tirare sull'insilato Dalla trincia Senza dover per forza salire e usare la palla Ma comunque per ora Prendiamo questo qui Costa anche molto meno Ecco qua Adesso prendiamo il tutto L'acquisto questo che è stato fatto appunto Per evitare di star lì a cambiare un'altra volta sarche Perché a questo punto non mi conviene Prendiamo direttamente al più grande E chi se ne frega Non è utile di star lì a cambiare sarche a manetta Ci metti meno tempo a fare cose Soprattutto poi hai un attrezzo Che può andare bene per tutti quanti i campi futuri Bene Vedete la mia idea è così Faccio così E voilà Ecco qua Ho fatto la combinazione Adesso vado a casa Preparo tutto quanto Valtra con caricatore Tante altre cose Poi chiediamo di spiegarvi il mio piano per oggi Buon'ora Valtra ho finito di consumare tutti quanti i campi Adesso posso finalmente di spiegare il nuovo acquisto Vedete che raccetti bestie Che roba Questo qua i campi li salchio in 5 secondi Sono crescita con le colture Il primo stadio Quindi è diventato un po' un casino Capirsi dove cacchio sono le erbacce Ma vabbè Sì un po' le vedi Ma però ti confondi Soprattutto quando male sei in campi enormi Diventi deficiente Ecco ma questo non è il mio problema Perché diventerà deficiente l'operaio e non me Adesso io metto l'operaio a cerchiare Un attimo Che mi cavo delle balle Sì un attimino E lui intanto parte E salga tutto quanto il campo Poi devo ricordare di fare anche il 26 Mare mi sfugge E poi mi trovo con gli erboni giganti Quindi meglio tenerlo d'occhio Allora intanto io cosa volevo fare In questa puntata qua Come detto l'altra volta Volevo diciamo Riciclare le balle di erba E trasformarle in balle di fieno Però volevo fare una cosa Volevo fare mezzo mucchio Venderlo Mezzo mucchio invece convertirlo Però poi mi sono accorto Una cosa Cioè che il prezzo dell'erba È in calo Quindi non mi convernava Infatti vedete un attimino Qua vedete 137 mi sono accorto al 147 Questo qua finalmente Ho deciso di capire Che è erba Fieno E paglia Quindi direi di convertire Tutta la pila in fieno Anche perché qua Cosa ho? Allora Qui dovrei avere Una Una pila e mezza Cosa cacchio è? Perché è un Mancazzata un po' Allora sì È una pila circa intera Più un piccolo pezzettino Cioè ci sono due pile Credo Da quello che mi ricordo Sì sono due pile Vedete una lì Una lì Quindi io vorrei convertire L'erba Questa qui E una la vendo Un'altra invece la deposito Di qua Cos'è meno ancora Del fieno disponibile Mentre la palla La lascio lì Quindi adesso io vedo Di far così Prendo le balle Vole utilizzare L'autocaricante Mi sembra molto molto comodo Ma io me lo sposto lì Così poi sul campo Faccio le strisce Quelli che le volto E poi le Diciamo Le ranghino E così poi posso ballarle Adesso balla in fieno Siamo già di non fare Ehm Ops Speravo di poter fare Una cosa fatta bene Ma in questo caso Non sono riuscito a fare Niente di buono Adesso io qua Vedo di fare Vabbè se ho calcare Micellatore qua vicino Mi converebbe Non converebbe Far così Ecco qua Questa ballona Oh cazzo Oh Ehm Non posso utilizzare Sono un idiota È vero È vero Cazzo Sì ma allora Come che faccio a convertirle Ehm Speravo che il mio piano Potesse servire A qualcosa Ma a quanto pare Mi tocca vendere Le balle Non posso farci niente Purtroppo Non è che Ma ci fosse tipo Un sistema Che quando tu ad esempio Non so Vuoi riciclare le balle Va semplicemente Che vai vicino Premi non so X Per tagliare i fili I cavi Roba E diventa Erba sfusa No Devi per forza Star così Tirarle fuori Una per una Poi di che Sistemarle e vendere Quindi mi tocca vendere L'erba Che è un prezzo di merda E io volevo Tranquillamente Convertirle E utilizzarle Per qualcos'altro Quindi adesso Non posso farci niente Mi tocca semplicemente Far così Che palle Per una volta Che Mario Poteva fare qualcosa Di bello No Allora Il case man Mi ha finito di cerchiare Sto risistemando Il rimorchio Dove era prima Circa Volevo mettere un pochettino Più vicino le balle Così magari Occupa meno spazio E no Sto grattando via Una colonna E ho venduto le balle Per 13.000 euro circa Quindi ottimo Va bene lo stesso Adesso qua Un po' di spazio Per poter buttare Ancora fino Dizio che ne ho Un po' meno Ma comunque Vabbè Tanto per quello Che mi serve adesso Sono più che a posto Ok Perfetto No Ho svolato tasto Perfetto Va bene Faccio vedere Come sono messi Gli animali Allora Abbiamo 77 galline C'è una nuova Proprio bestiale Il gallo Si è stato ben da fare E sarà Praticamente finito Poleto Peccore anche Sono arrivate a 12 Ne avevo messe 10 E mucche Sono ancora 10 Dovevo aumentarle Più avanti Fino a essere un prodotto Grazie all'utilizzo Del fieno 4.000 litri Fieno E l'inizio erba Ma erba Faceva veramente poco Infatti Era 25% 75 E adesso Con la razione mista Faranno il 100% Quindi faranno Ancora più litri Comunque Utilizzando il fieno Si arrivate fino a 4.000 litri Per letame 5.000 E liquami E 2.000 E latte Quindi ottimo Perfetto Speriamo che questa razione mista Raddoppi il tutto Così magari Forse una puntata Vediamo di vendere Le nostre prime Non so Facciamo primi 10.000 litri Di latte Credo Anche se ci vuole un pochettino Ma va bene Vedremo Adesso invece Andiamo a fare La razione mista Che come sempre E come sapete Ovviamente Richiede l'utilizzo Di una balla di fieno Una balla di paglia E il resto insilato Adesso vediamo Subitissimo Di farla Subitissimo Subitissimo Ok ultima palata Adesso finalmente La razione mista È pronta Vediamo di svuotare Magari un attimino Qui Il residuo Così abito Magari Di spazzare In giro Per sbaglio Ok E adesso Andiamo a vedere Di darlo Alle nostre Adoratissime Mucchine Così finalmente Produrranno Un sacco di latte Un sacco di letame Ovviamente Grazie anche alla paglia Adesso Mi rabalto E devo sistemare Un attimino Questa pezzola Perché l'ho fatta Troppo corta E sinceramente Dovrei mettere Un po' di cemento Anche qui Non qui Magari potrebbe servirmi Ma magari In questa zona qua Ecco visto che Quei mesi Passo più Più sull'erba Che il resto Ok adesso Andiamo qua E vediamo Lato scarico Boh Adesso qua Ce la faccio Lato scarico Sinistro No facciamo destra Ok Boh perfetto Andiamo Ah beh A voglia Ci vorrà ancora Penso Vediamo Subitissimo Penso Due carri Credo Adesso vediamo Subitissimo Ok No Forse Un altro Un altro Potrebbe andare bene Sì sì Adesso io qua Vado avanti Poi ci vediamo Quando ho finito E vediamo Di fare anche Qualcos'altro O c'è qualcosa che faccio Danne come al solito Boh allora le vacche sono a posto Con la reazione mist Intanto vedete che stanno Anche producendo un pochettino Di più Sono aumentate di penso Due trecento litri Rispetto a prima Il che non è male Sistemando un pochettino Rapile di erbia che c'era Dentro il capannone Perché si è un pochettino Rovinata Ci sarebbe anche quella di paglia Solo che non è proprio Messa tanto male E in teoria Penso sia il problema Di collision Tra il capannone E le balle Quindi questo causa Un problemino Adesso è notata Vedete che lì Sopra è leggermente piegato Pena appena Proprio piegato Perché in teoria Fa collision Ah no ok No è proprio Ok adesso ho capito cos'è È il Questo pezzo qua Che fa Che da problemi Devo ricordarmi Di poi spostare Le balle Queste qui Di qua Vicino a quelle di fieno Così poi sono a posto Infatti questo Quello che farò Però però adesso Mi limito a spostare Semplicemente quelle di fieno Perché non ho messe peggio Mentre le altre Fermo un'altra volta Quindi adesso Sistiamo tutto quanto A questa roba qua Sistemo quell'autocaricante Dopodiché ci vediamo A giorno dopo Per iniziare le tre viature Così almeno Faccio un po' di raccolta Da mettere da parte Se vuole capire Per Madonna Ho visto le Madonna Non fare casino Era tutto quanto a posto Dopo ho toccato una balla E il risultato È stato questo qui Quindi dovrò sistemare Ancora le cose E poi magari Ci sono Sistemerò anche Le balle di paglia Così Essendo vicine Si fanno Diciamo da Come si può dire Si sorrega una vicenda Ecco quindi Intanto Meglio se lascio lì Porto una balla Dove serve E lascio tutto quanto lì Anzi Lasciamo la balla Direttamente qui E preparo la trebbia Per poter trebbiare Che è meglio Prima che le cose Peggiorino E magari Mi esploda qualcosa Prima di iniziare A temere i campi Voglio farvi notare Una piccola cosa Che ho visto Mentre stavo Facendo una reazione mista Dopo l'aggiornamento 1.3 Il letame Viene fuori così Purtroppo Non fuori solamente Alla parte destra Mentre a sinistra Non c'è assolutamente nulla Prima invece Cresceva dal centro E dopodiché Aumentava E si espandeva Quindi in questo caso Troverete più avanti Una montagna a destra E zero a sinistra Questa cosa qua Purtroppo dipende Dalla patch 1.3 Che ha creato Questo piccolo bug L'ho visto anche Da Marco Sia nel video Che durante Il partito con lui Quindi Purtroppo è una cosa Che ricorda tutti quanti E purtroppo è anche Una cosa normale Perché giustamente Quando aggiorni qualcosa Quando modifichi dei file A volte parece Che Mario Vai a intaccare Qualcos'altro Quindi crea questi problemi qua Spero che magari Nel prossimo DLC Che da quello Che mi pare di aver capito Riguarderà forse Le carote Come cultura principale E sarà metato in India Sistemeranno Questi bug qua E magari Non ne creeranno Altri Anche se la vado dura Perché è una cosa Purtroppo normalissima Ecco Non ci sa mai Cosa può creare Un qualcos'altro O l'avviamento Dalla motosega Per coce Adesso qua Iniziamo subito A trebbiare il campo E direi di concludere Qui questa puntata Perché purtroppo Avevo in mente Un'altra cosa da fare Avevo dovuto fare Una roba fatta bene Che riguardava Praticamente Il trasformare Le balle d'erba In balle di fieno Ma purtroppo Non ha funzionato Magari Se potessi Se Mario usciva Qualcosa di adatto A questa cosa qua E' stato veramente bello Però purtroppo Niente Quindi pazienza Ecco Ripeto Potevano fare una cosa Anche quelle della giant Potevano fare in modo Che l'iluminio Potesse tagliare via Gli spaghi Delle balle E fare le balle sfuse Come in più era Per Il 17 Per quanto riguarda Le balle di cotone Di siletto fermentato Ecco Potrebbe essere Una cosa veramente ottima Ma purtroppo Niente Pazienza Ecco Quindi niente Questo video Sarà un pochettino Più corto Se ne vedete Anche voi Cosa potrei fare Nelle prossime puntate Avrei già in mente Qualcosa Però vorrei Che foste anche voi A darmi una mano Visto che Anche voi Siete fate parte Di questo canale qua Quindi Mario Se mi suggerite qualcosa Rendete tutto quanto Mario più bello E più interessante Vedremo la prossima volta Cosa fare Intanto vediamo Le muche Cosa producono E Mario Vedremo poi Di fare altre vendite Di altri prodotti Che possono anche essere La lana Per esempio Per adesso Non vale tantissimo Mi pare che valga Sul 2400 Se non ricordo male Ecco No Scusate ho sbagliato Mi confondo sempre Tra cotone E coso Qua E lana Niente Il prezzo è in discesa Quindi niente Aspetterò In offerta buona Poi venderò La lana Quindi niente Alla prossima Mi raccomando Fatti bravi Continuate a seguirmi Anche se Mario Non sono proprio Tanto bravo Lo so Ma purtroppo Non posso farci nulla E niente Alla prossima Mi raccomando Continuate a seguire Anche i video ignoranti E A seguire anche noi Nella serie di Marvel Che facciamo un baccello Alla prossima Ciao ciao